Ciao a tutti! Nikki, scusa, ti sei alzata adesso? Sì! Cosa ci fai ancora con la mascherina che ho scritto Dream? Quanta è caruccia! Ah, ho capito cosa vuoi fare! Vuoi fare una challenge? Allora, va bene, facciamo una challenge! La challenge delle LOL, serie 2, Wave 2, con Miss Punk! Allora, vediamo chi sarà più veloce tra di noi, prima fai tu, poi dopo farò io, ad aprire e riconoscere la LOL con gli occhi chiusi! Allora, prego, cara, tira pure giù la tua benda e comincia! Vediamo se la riconoscerai! E soprattutto se sarai veloce! E la troverò male! Non sei partita proprio benissimo, eh? Guarda, ti do un piccolo aiuto, diciamo che da qua su devi partire! Qua, 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 qua! Ah, devo fare io, ho capito! Vai! Qua? Sì! Non vedo niente! Eh, certo, è quello il senso! Voglio vedere che indizio è! Eh, no, invece non lo vedrai, lo vedremo noi! Stai strappando tutto l'indizio, vero? No, stai strappando uno strato di plastica! Dov'è? Eh? È vera! Sì, ci sei quasi! Guarda, qui, 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 senti? Qua, 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 qua! Ecco, bravo! Devo fare io? Sì! Allora, dopo mi aiuti anche tu, però! Sì! Ok, dai, allora ti aiuto a scipollare! Dov'è l'indizio? Ah, lo vedo io, l'indizio! Lo vediamo noi! Ecco l'indizio! Questo e questo! Con il strato? Eh sì! No, no! Vai con il secondo strato! Fatta male? Sì! Ci saranno perite di sangue! Vedere dov'è? No, non è lì! Dai, te lo comincio, è qua! Tieni! Dov'è? Qui, qui, qui! Qua! Vai! Ok, visto! Visto! Hai sentito? Sì, sentito! No, visto, scusa! Allora, io quell'indizio l'ho già visto! Nessuno dirà lo vuole, vero? Direi di no! Mamma mia, che forza brutta! Non so neanche cosa sto facendo! Sì, infatti! Dai, strappa! Non ce la faccio! Ah, è una porta! Mamma mia, hai già perso praticamente! Cioè, non riesci nemmeno ad aprirla! Dai che ti aiuto! Non ce l'ho mai visto! Eh, niente, lo puoi solo immaginare! Immagino un po' brutto! No, è carino, è carino! Sì! Oh, ce l'abbiamo fatta! Dove è il cartoncino delle abilità? Ah, è qua! No, è rimasto attaccato! Eccolo! Cambio colore, sputacchia, fa la pipì o piange! Che colore è la bolla o no? La bolla! Non si vede ancora! Va! Vai! Vabbè, qui? E... Puoi bucare! No, dai! Ah, no, è verde! Si vede, si vede verde! È verde! Tieni, Niki! Qui! Ok! Vai! Sono curiosa! Primo pacchettino! Ok! Dov'è? Eh, prova! Qui! Vai! Sì! Sì! Lo faccio! Yeah! Ok! E' l'ultimo? Oh, qui! C'è il pacchettino! Poi dov'è? Lo devo tastare! Devo tastare, ma non capisco! Sì! Vai! Allora, ci hai messo quasi 5 minuti per aprirla! Oh, mia! Eh! Sì, dov'è? Può capire! Lì! Ah, ecco! Ok! Pacchetto! Perfetto! Prima apro questo pacchetto! Ok! Ok! Va bene! Le scarpe? No! Gli occhiali! Gli occhiali! Guarda! Ma ci sono più... Guarda! Tieni! Tutte qua! Quella è la LOL! Tella per ultima! Questi occhiali! Mmm... Chi ti ricorda! Oh! Ok! 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 Chi è questo? Eh... Te lo posso dire! Questa è la bustina? No! Questa! Vai! Queste le abbiamo già aperte! Ecco! Ma hai un'idea? No! Niente! Proprio! Dai! Apri la LOL! Vediamo! Da chi si apre? Tu! Eh! Bè! Tu strappa! Chi è? Ah! Chi è? Eh! Tasta bene! Dai! Non ti dice niente! Effettivamente! L'acconciatura è quella! Deve toccare bene i vestiti! Guarda! Ti passo! Ti tolgo le carte! Dov'è l'altra scala? Qua! Tieni! Qui c'hai tutto! Tasta bene! Eh! Una gonna! Sì! Una maglia! No! Le pattini! Eh! Prova a sentire le scarpe! No! Ah! Chi? È Neon? Chi? Sbendati! Quanto è carina! Ma sai che io non le davo due lire invece è troppo bellina! Bellino! È carinissima! Mi piacciono un sacco le sue calze! Oddio che carina! Ma poi c'è tutte le stelline qua sotto gli occhi! È bellissima! È bellina! E non ha neanche un difetto! È perfetta! Perfetta! Carina! Adesso tocca a te! Adesso tocca a me! Allora siccome a me non mi vedranno tu devi testimoniare che io tengo gli occhi chiusi! Yes! Ok! Va bene allora! Questa è la tua! Dopo la vestiamo! Dopo la benda! Mi preparo! Sì! La benda la voglio! Mi preparo! E partiamo! Ok! Sono pronta! Sono bendata! Sì! Sì è bendata! E comincio! Ok! Questa Lolla mi chiamava qui! Oddio! Dov'è la cerniera? No 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 no! Non è lì! Non è lì? Qua! Qua? Sì! Ok! Ecco! L'ho già persa! No qui! Ecco! C'è una sfida in atto! Allora! Indizio! Tu lo vedi? Uh! Bene bene! Guardate! Ok! L'han visto? Sì sì l'hanno visto secondo me! Va bene! Non lo so poi! Allora! Cerchiamo! È un problema lì! È qui? Qua è qua! Qua? Sì! Ok! Stai prendendo dal basso! Ah! Va bene! Purcha si apra! Allora! Io questo indizio non l'ho mai trovata! Non l'hai 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 mai trovata! Le abilità! Dove sono? No! Aspetta! Aspetta! Scusate! Allora! Perché sono in questo modo? Guardate la differenza! Ma perché? Sono diverse? Sì! Cioè tipo cambia un po' il colore? No! Del cartoncino? Non ci sono le scritte! Ah! Eh non lo so perché! Non lo so! Sono anche una più scura! Adesso andiamo avanti e vediamo se alla fine ci hanno fregato! Eh sì! Perché? Questo faceva parte della carta di prima? Ehm... O è un altro strato? È un altro strato! Ah! È rosa! È rosa! Ok! È rosa! È rosa! Sì! Ma chi è? Oddio! Stavo rinando l'attacco di panico! No! Oddio! L'attacco di panico no! Mi sa che lei! È bella o brutta? Un po' brutta! Oddio no! Cioè è bellina però non lo so perché! Però non tanto! Buca! Ah buca! Ok! Al verone io già l'ho quasi visto però! Come hai fatto? Eh io riesco a vedere! Ho gli occhi! Eh gli infrarossi negli occhi! Ok! Il pacchetto! Ah qui! Vediamo un po' di ricacitare! Hai capito? No perché te... Ho una mezza idea dalle scarpine! Mi manca ancora uno strato! Yes! Qua! Aspetta aspetta! Qua! Ecco! Dove? Qua! No! No! Ecco! Sì! No! Qua! 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 Ecco bravo! Ok! Non riesco a vedere le scarpe! Yeah! Pizza! Ok! Eh però sto vestigino sempre con le buste! Non li stai aprendo no? No! No 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 no! Sto cercando di travedere! Ok! Allora! Qui c'è la LOL! Qui sono le istruzioni! Qui sento degli occhiali! Degli occhiali! Qui sento una LOL! No non è LOL! Vai! Inizia ad aprire il primo pacchetto! Vai che ce la fa! Andiamo bene! Molto bene! Oh! Oh! Mi sta venendo dosso la telecamera! Allora! Scusa dove è il biberon? Eh! È lì! 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 Ah ok! Ok! Ah! Mi so che lei è... Eh! Ascolta telecamera! Avete visto la mia felpa! No non è vero! No perché rinquadra di là! Ok! Qui c'è il biberon! Lo sto inquadrando secondo te? Penso di sì! Ok! Eh sì è lei! Al senso secondo me piace! Puro poi... Ah ma è sì! Allora! Degli occhiali! Degli occhiali! Eh! Che hanno la forma di quelli di neon! Praticamente sì! Eh ok! Sono uguali! Però! Adesso io non mi ricordo molto bene il biberon di neon! Ma mi sembrava diverso! Eh brava! Ok! Questo è più tipo un bicchierone di Starbucks! Sì! Questo è il vestito! Qui c'è il vestito! Sì! Io ho capito chi è! Io ho capito chi è! Tu hai capito chi è! È un vestitino! È bellissimo! Il vestitino è al tatto mi sembra tipo quello di Posh! La forma! Eh beh pensi quello di Posh? Ho detto la forma! Ah la forma! La forma! Al tatto! Cosa mi manca? Questa! Questa! Le scarpe! Oddio! Aiuto! Sì! Sono lì le croce! Allora adesso capiamo subito se... No! Non è Posh per forza! Perché Posh ha i pattini! Sì! E poi avremmo dovuto trovare il cappello! Ok adesso mi manca la LOL Duclè! Vai! Dai! Ecco! Allora! Ok! Ecco! Uh che bella LOL! Chi è secondo te? Dov'è la faccia? Ah qua! Allora! A me sembra... Dall'acconciatura... Doll Face! Sbendati! Grande! È Doll Face! Grande! Che carina! Oddio che strano adesso rivedere la luce! Molto strano! Molto strano! Che belle! Io sono contenta! Tu no? Sì! Forse non le avevamo! Eh no! Gli occhiali erano uguali a nero! È vero? Ha la stessa forma! Sì! Yes! Aveva sempre gli occhi! Sì! Altrimenti l'avrei aperta molto più facilmente! Esatto! Che carina che è! È bellina! È molto molto bellina! Molto molto bellina! Chi sa le loro abilità? Secondo me lei cambia il colore! Te dici? No! Non lo so! Non lo saprei! Ma lo scopriremo solo vivendo! Allora in questa challenge di oggi ad occhi chiusi dove mi sono messa la prova anche io! Sì! Abbiamo trovato Neon, Cutie e Doll Face! Chi è stata più brava? E quale LOL vi piace di più? È stata più brava io? Sì! Sì! Ok! Che mi ha visto 20 minuti per due! No! Forse un po' di più! Vabbè! Fatecelo sapere nei commenti! Il video è finito! La puntata è finita! Su! È bellina la Nikki! Qua in mezzo alle due LOL! Ciao a tutti! Alla prossima! Ciao a tutti!